Siamo con Peppino Petrocelli del ristorante La Grotta di Asti, in questa serata che sta andando benissimo, la Duyador, grande manifestazione, le degustazioni stanno andando benissimo, sia per quanto riguarda i vini del concorso nazionale Duyador, ma anche la Duya della Barbera e la Duya dell'Asti a Palazzo Ottolenghi e a Palazzo Alfieri. Con il nostro grande Peppino, però parliamo di un importante impegno durante la Duya, il piatto d'autore, chiediamo innanzitutto quale piatto La Grotta ha presentato stasera. Stasera come piatto abbiamo presentato un filettino di maialino a salsa dei funghi con tortino di formaggio e salsiccia, con contorno di cipolline, una guarnizione di rosmarino e una carota. Ecco, un piatto quindi di quelli sostanziosi direi, no? Che abbinamento con quali vini avete fatto? Abbiamo abbinato, sto piatto con un buon Barbera d'Asti Doc. Eh certo, io credo che la Barbera in questo momento sia un vino che ha grandi potenzialità per la nostra cugina piemontese, Monferrina Stigiana, quindi complimenti al ristorante della Grotta. Qualche notizia sul ristorante vostro, ma anche, ecco, quale tipo di cucina presentate? Noi presentiamo una cucina tipica piemontese, con base di bollito, un po' c'è un carello misto con tutti i piatti piemontesi con dei contorni misti e dei dolci della crostata di nocciola, con zambaione. Peppino, mi sembra che sta andando tutto bene, avete dei vuoti nella vostra sala? Allora, per il piatto da vuotore è andato tutto bene, siamo soddisfatti di come è andata la strada, siamo tutto pieno, che continua così la serata. Grazie, direi che la Grotta è uno dei cosiddetti ristoranti stellati, che è un biglietto da visita per il nostro territorio e per il nostro turismo, l'enogastronomia, ma anche l'ambiente e la Duia, col Festival delle Sagre, ha dimostrato che sono manifestazioni veramente eccezionali. Grazie a tutti.